Signori, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video che riguarda la macchina ma che è in studio perché oggi gettiamo le basi per prendere possesso, per hackerare, chiamatelo come volete, la nostra automobile con questo, con 2 euro di Arduino Uno e potremo fare veramente qualsiasi cosa, potremo controllare i finestrini, potremo mettere le frecce, accendere e spegnere i fanali muovere le lancette dell'acceleratore, dei giri e della benzina, dare comandi all'autoradio e boh, se avete delle macchine più fighe immagino anche, non so, tipo, quelle cose tipo aprire il bagagliaio, chiudere il bagagliaio, non lo so, io ho una Fiesta di 12 anni fa l'importante è che quello che vedremo oggi è bene o male universale per, tipo, tutte le macchine oggi vorrei parlare un pochettino più della teoria ma saranno tutti concetti essenziali per quello che sarà il prossimo episodio in cui andiamo con questo materiale di cui vi parlo a fine video in macchina, ci attacchiamo dentro con i cavi colleghiamo ad Arduino, cacciamo una USB da Arduino al computer e con il computer attraverso Arduino ci mettiamo a sniffare codici intercettarli, identificarli, decodificarli, salvarli, creare un piccolo database e poi automatizzare le cose varie signori, sono gasatissimo, questo moralmente è il secondo episodio della serie modifiche alla mia macchina nel primo episodio, forse sono già stati due episodi, non lo so, in quello che avete già visto in passato insomma ho installato un autoradio Android con schermo sulla mia macchina in modo da avere un bello schermo su cui proiettare una web app ad esempio che si possa connettere a un Raspberry con Wi-Fi Direct che sarà a sua volta connesso a un Arduino, non lo so, adesso vedremo come gestire tutto l'ecosistema Arduino ci sarà, molto probabilmente ci sarà un Raspberry, ci servirà sicuramente uno schermo oppure potremo fare anche tutto da un'applicazione, quello che è bello è che se avete voglia o le conoscenze oppure anche magari lo faremo in un video di programmare una piccola applicazione è più facile farlo per Android che non per iOS, ma potremo avere un'applicazione sul telefono che si connette via Bluetooth alla macchina tra virgolette, in realtà all'Arduino che abbiamo a quel punto nascosto in quel canfratto della macchina e ci permette dall'applicazione di tirar suoi giù i finestrini di spegnere i fanati, cioè vabbè, sarà lunga la strada ma cominciamo con il capire come faremo tutto questo ah beh, se la prima premessa era che tutto quello che vedremo in questo video ci è essenziale per quello che faremo nel video prossimo quindi il video di oggi guardatelo perché sennò poi vi manca di capire cosa stiamo facendo la seconda premessa è non sono un esperto di legge del codice della strada non sono sicuramente una forza dell'ordine o non lo so quello che faremo tecnicamente non penso possa essere considerato modifiche al veicolo e quindi dovrebbe essere legale ma io nel dubbio vi sconsiglio di farlo a casa comunque i rischi in quello che stiamo facendo sono estremamente remoti ma l'automobile è comunque un dispositivo nel suo complesso, diciamo la cui sicurezza è veramente critica perché si muove molto velocemente in mezzo ad altre cose e persone quindi non fatelo a casa, non mi assumo nessuno nel tipo di responsabilità se proprio volete farlo non usatelo su strade pubbliche, solite cose ecco poi se qualcuno nei commenti che non si sia informato sui forum online ma che sappia veramente i codici della strada ci sa dire se avere delle cose connesse alla porta OBD2 della macchina è legale oppure no avremo anche una risposta entro il prossimo video ma vediamo a noi, potrete sicuramente immaginare quanto sia complesso un moderno veicolo una moderna automobile, ci sono dozzine di interruttori, pulsanti, manopole, sensori, attuatori non solo nel motore ma anche in cabina, nell'abitacolo, pensate ai finestrini o il servosterzo per dire più tutta la parte del motore chiaramente con tutti i suoi sensori e attuatori quindi invece che piazzare in giro fasci di cavi così, migliaia di cavi che vadano a ciascun sensore tutti i moderni veicoli adottano un sistema divide e timpera delegano le attività di basso livello a tantissime centraline, a tantissimi piccoli anche microcontrollori magari non più complessi del nostro Arduino Uno che useremo oggi sparsi per la macchina, ognuno con i suoi compiti che poi parlano tra di loro, comunicano assieme tramite quello che viene chiamato controller area network per gli amici CAN, se vi interessate di macchine o non lo so, l'avrete molto probabilmente sentito nominare come CAN bus, perché questo sistema controller area network c'è una rete, un'infrastruttura di rete ad area che collega più controllori questa infrastruttura è proprio un bus, un bus dati, anzi due bus dati che permettono questo dialogo tra le varie componenti quindi con due fili che sono gli stessi per tutti abbiamo risolto tutta la comunicazione tra tutte le varie centraline della macchina è un protocollo che ha i suoi anni è stato sviluppato da Bosch negli anni 80 ma se non sbaglio è obbligatorio i suoi veicoli tipo dai primi del 2000, non mi ricordo, torna in quella zona lì quindi se avete una macchina degli anni 90 o una macchina vecchissima è possibile che non possiate fare quello che oggi faremo però comunque siete un raro caso e si usa ancora questo protocollo dagli anni 80 sia per una questione di standardizzazione sia perché è particolarmente figo perché è veramente robusto cioè ha pochi problemi soffre di pochi bandi anzi nessun problema noto consente un'ottima larghezza di banda quindi si possono passare tanti dati molto velocemente diciamo e consente ottime distanze quindi posso avere la centralina dell'airbag che sta nel portellone del bagagliaio e quella nel cove cioè posso tirare metri e metri di cavi senza avere troppi problemi di interferenze di correnti parassite di campi elettromagnetici rumore elettromagnetico non c'è praticamente nessun tipo di problema da questo punto di vista perché? come funziona? vi ho detto che abbiamo due cavi no? allora facciamo un grafichino i nostri due amici si chiamano can high e can low entrambi quando sono a riposo stanno attorno ai 2.5 volt di tensione e poi si possono rappresentare bit significativi cioè i dati portando contemporaneamente a 1 volt e 5 il can low e a 3 volt e 5 il can high se io che sono la centralina del volante dei comandi a volante per l'autoradio voglio comunicare un messaggio perché magari mi è stato premuto il pulsante di volume in su cosa faccio? tiro can high a una tensione più alta e can low a una tensione più bassa e poi da questo momento in cui ho dato il primo sbalzo diciamo e quindi ho comunicato agli altri che sto trasmettendo un messaggio posso modulare uni e zeri quindi informazione digitale semplicemente alternando impulsi in questa maniera ma muovendo sempre entrambi i cavi ed è questa la genialata perché normalmente la comunicazione digitale anche la seriale di arduino banalmente funziona che abbiamo un ground che sta sempre a zero e un 5 volt su cui viene modulata il segnale e quindi il 5 volt va su e giù mentre il ground sta sempre a zero qui invece che entrambe le tensioni si muovono in direzioni opposte contemporaneamente praticamente si evitano tutti i problemi di rumore e quindi è per questo che il protocollo è così robusto e così figo per curiosità il valore alto è lo zero per qualche ragione quindi questi qua sono tutti zeri e questi qua sono tutti uni ma mi inserisco un attimo qua in mezzo per dirvi come questo video sia sponsorizzato da Atani un interessantissimo software di cui vi ho già parlato in passato più volte me ne approfitto per ricordarvelo perché se siete interessati al mondo crypto se già smanettate un pochettino magari usate più exchange perché non tutti hanno proprio i coin che volete Atani è un interessantissimo aggregatore di exchange gratis lo diciamo subito totalmente gratuito potete collegarci tutti i vostri diversi exchange che avete con delle api key che vengono salvate in locale sul vostro computer quindi super sicuro e vi permette di vedere il portofolio totale sommando quindi quello che c'è su ogni exchange di fare trading su ciascuno di fare cose interessanti che solo avendo la cognizione di tutto quello che succede nei vostri portafogli crypto si possono fare tipo il report delle tasse avere un software che fa il report delle tasse in maniera totalmente gratuita è direi tanta roba e in più ci sono funzionalità particolari tipo i grafici con TradingView Premium gli avvisi via sms via mail sul prezzo inclusi nei grafici è tutto quanto gratis non c'è proprio nulla da pagare loro ci guadagnano perché hanno accordi con gli exchange che tanto voi già usate e quindi è un win-win per tutti assolutamente provate Atani link in descrizione allora se questo era il mio grafico di tensione mettiamo la V di Volt nel tempo cioè man mano che va avanti il tempo la tensione può variare in questa maniera vediamo un attimo però a livello pratico proprio come è cablato sta roba cioè come si fa a fare sta roba su due fili è super semplicissimo ci sono i nostri due fili che se ne vanno in giro perché sono un bus e quindi fanno il giro della macchina in modo che tutti possano arrivare a parlarci hopla ci sono questi due cavetti che di solito sono intrecciati per una questione di evitare ulteriormente i disturbi all'estremità cosa c'è? all'estremità ci sono due resistenze da 120 ohm e basta cioè non serve alimentazione esterna cioè sono proprio due cavetti così e praticamente tutte quante le nostre centraline che sono in giro per la macchina sono allacciate sia al can high sia al can low poi ovviamente loro sono alimentate per conto loro però possono fare questo gioco ciascuna di controllare sia can high sia can low per parlare alle altre affascinante vero? bene, parlare alle altre ma come si parlano? allora, si mandano messaggi dei messaggi ben strutturati e questa è una parte importantissima che ci servirà per il prossimo video come è strutturato un messaggio can? allora, nel treno di uni e zeri che formano i nostri byte che vengono scambiati insomma vengono inviati tra le varie centraline il primo pacchetto si chiama SOF start of frame cioè comincia un'informazione abbiamo visto che i bus entrambi erano a 2.5 volt lì, tranquilli insomma, non c'era nessuno che stava parlando di colpo, pum! cambio le tensioni inizio a parlare poi abbiamo un ID un identificatore devo dire chi sta parlando salve, sono la centralina dei comandi del volume del volante poi c'è un pezzettino che si chiama RTR in realtà è un solo bit booleano cioè può essere 0 o 1 e sarebbe remote transmission request cioè chiedo a qualcuno remoto chiedo a qualcun altro di trasmettermi roba non si sa mai magari la centralina delle lancette del cruscotto vuole chiedere alla centralina dei pedali in che posizione è il pedale dell'acceleratore o vuole chiedere alla centralina del motore a quanti giri sta andando il motore quindi questo qua è giusto 1 se sto chiedendo a qualcun altro di inviarmi roba oppure 0 se sto io dicendo cose ma non voglio necessariamente una risposta poi ci sarebbe un pezzettino che si chiama IDE che sarebbe un'estensione dell'ID tipo alcuni sistemi alcuni veicoli nuovi che hanno un botto di centraline non gli bastano questi 11 bit per dare un nome univoco a ogni centralina ma ne servono di più e quindi qua ci sono altri 18 bit disponibili per un totale di 29 bit per dare insomma un nome molto più lungo in modo che tutti abbiano un nome diverso se c'è tanta gente che parla vabbè poi un altro po' di roba qui non ci interessa particolarmente quello che ci interessa è come sono fatti i dati perché i nostri dati cominciano sempre con un byte di DLC che non è l'espansione di un videogioco ma è il data length code per gli amici lo chiamiamo solo data length perché non ho voglia di scrivere è la lunghezza dei dati cioè ti dico quanto i byte ti sto per trasmettere da 0 a 8 vabbè 0 in realtà non te li trasmetto mai perché se no non starei nemmeno parlando però al massimo 8 byte quindi qua di seguito ci sono i dati abbiamo detto che sono 8 quindi tecnicamente se vogliamo fare una cosa fatta leggera leggera in azzurro qui ci sono 8 byte che vengono trasmessi e questo è il contenuto del mio messaggio poi ci sono altre 4 robe delle quali non ci interessa particolarmente quindi farò uno scarabocchio anche qui e dopo c'è il nostro end of frame cioè il mio messaggio è concluso andate in pace quindi facciamo un esempio pratico per capirci i pulsantini del volante il volante vuole alzare il volume della radio quindi va bene start of frame cioè inizia a parlare cosa deve mandare deve mandare il proprio identificativo innanzitutto quindi lui dirà ad esempio salve a tutti sono 0x0584 che è il suo nome oh tu ti chiami Antonio e lui si chiama così la cosa molto interessante è che il protocollo CAN è un protocollo di tipo broadcast cioè chiunque parla trasmette a tutti le proprie informazioni e dopo chi sa di dover ascoltare ascolta e questo è molto interessante perché lo andremo a sfruttare con il nostro arduino poi magari manda un 0x0 perché non vuole nessun tipo di trasmissione di dati sta solo dicendo che stiamo alzando il volume quindi il nostro rtr sarà 0 l'identificativo è steso non ce l'abbiamo perché è una macchina non nuovissima magari ah data length lui per chiunque voglia ascoltare dice weh vi sto trasmettendo 6 byte e poi cominciano i nostri dati che sono appunto i nostri 6 byte siamo 0x0584 siamo la centralina dei pulsanti del volante il nostro messaggio sarà hey i pulsanti del volante in questo momento sono in questa configurazione quindi magari ci caccia un 0x01 0x00 0x60 0x43 0x40 e 0x23 questo è il contenuto del messaggio cioè che modo sono premuti i pulsanti in questo momento e poi vabbè tutto il resto delle schifezze che non ci interessano fino all'end of frame fino alla fine del messaggio questo è un tipo di messaggio che si può scambiare facciamo un altro esempio così vi mostro qualche cosa in più perché nel prossimo video ci sguazziamo con questi byte ad esempio sono un computerino di diagnostica di un meccanico autorizzato che vuole mandare una centralina in modalità debug vuole chiedere delle informazioni insomma mando questa cosa mando 0x02 sto per inviare due byte ovviamente avrò detto il mio id non si dice mai a chi è destinato il messaggio si dice sempre chi sono io e dopo chi vuole ascolta 0x02 quindi sto per mandare due byte di dati 0x01 0x0c questo se non sbaglio sulle opel dovrebbe essere il comando per leggere il numero di giri del motore a quel punto la centralina del motore comincerà ai intervalli periodici a inviare questo tipo di messaggio un messaggio lungo 4 byte allora 0x01 era un volume informazioni e 0x0c era l'identificativo di quali informazioni vogliamo cosa vogliamo vogliamo il numero di giri del motore quindi la risposta della centralina motore che invierà poi periodicamente sarà 0x41 perché se si fa una domanda a chiunque qualsiasi domanda si fa la risposta avrà come primo byte di dati questo qui la domanda che gli è stata fatta più 0x40 si somma sempre 40 per rispondere tu mi chiedi 0x01 che è la diagnostica del motore la mia risposta conterà 0x41 tu mi chiedi 0x21 la mia risposta sarà 0x61 sommo sempre 40 per dire che sto rispondendo a quella determinata richiesta poi per sicurezza qua ricoppio gli dico guarda ti sto inviando le informazioni del numero di giri del motore e poi ovviamente ho altri due byte perché lui nella sua domanda ce ne erano due nella mia risposta ce ne sono quattro quindi ho altri due spazi qua per mettere le informazioni dei giri del motore ad esempio la sua risposta sarà 0x0d e 0x3c e se diamo una rapida occhiata alla pagina di wikipedia che trovate linkata anche in descrizione che ci dice un po' come interpretare questo tipo di messaggi perché sono molto molto universali tipo 0x0c sono i giri del motore penso per tipo tutte le macchine bene come funziona avevamo due byte per rappresentare un numero che va da zero giri a quanto vanno le macchine 7000 8000 il fondo scala della lancetta però come si legge beh il byte 0x0d in decimale sarebbe il numero 13 0x3c in decimale sarebbe 80 quindi ho chiesto quanto fossero i giri mi è stato risposto 13 e 80 come si interpretano questi dati? beh sappiamo perché è uno standard che il numero di giri del motore è uguale a 256 per il primo numero più il secondo numero diviso 4 si sono inventati sta roba per poter rappresentare i giri del motore su due byte quindi 13 per 256 più 80 diviso 4 fa 852 giri al minuto quindi non stiamo nemmeno accelerando la macchina è proprio a riposo però sappiamo che il motore è esattamente in quel momento a 852 rpm bellissimo molto bene sappiamo tutto tipo cosa ci manca in realtà? vabbè ci manca da sapere che si può comunicare a diverse velocità ci sono diverse velocità di campus di solito sono 2 megabit per secondo 1 megabit per secondo 500 kilobit e poi dei valori strani tipo 92 e 5 33 virgola 3 sempre kilobit per secondo comunque di solito in generale tutte le macchine dovrebbero avere il can a 500 kilobit in realtà essendo non distruttivo per come si trasmettono le informazioni su quei due cavi si possono comunicare centraline diverse a velocità diverse anche contemporaneamente cioè ognuno si fa i fatti suoi ognuno butta i dati alla sua maniera alla sua lingua alla sua velocità e dopo chi ascolta ascolta però la velocità di 500 kilobit dovrebbe essere abbastanza standard e sarà un ottimo punto di partenza bene detto questo dovremo sradicare pezzi di plastica tagliare cavi e attaccare l'arduino a questi due fantomatici cavi della nostra macchina saldando magari delle cose assolutamente no quindi potete farlo tranquillamente anche sulla macchina del papà o sulla macchina della moglie e nessuno si accorgerà di niente perché? perché tutte le macchine in teoria dagli anni 2000 mi sembra dal 2002 qualcosa del genere non lo so le macchine moderne diciamo quelle da un bel po' di anni devono averci tutte a bordo da qualche parte questo tipo di interfaccia uno spinottone che in realtà per il giorno d'oggi è proprio brutto grosso uno schifo sicuramente sarebbe molto più comodo mettere una usbc ma è stato pensato per essere bello universale quindi è questo per tutti e facciamocelo andare bene questo si chiama OBD anzi OBD versione 2 che sta per on board diagnostics diagnostica di bordo cioè è una porta per potersi connettere al campus ma anche tutta un'altra serie di protocolli che dopo ogni produttore mette sulle proprie macchine perché fare le cose universali non piace a nessuno soprattutto quando ci sono soldi brevetti coinvolti quindi tocca fare il campus per tutti perché così il produttore di automobili può comprare la centralina della Bosch per il motore e la centralina di ARM insomma può prendere pezzi da vari produttori e mettere tutto insieme sa che funzionano però poi ognuno tende a fare il suo gioco cioè abbiamo questo bus che è universale per tutti e però io ci metto anche il mio protocollo che è più figo perché posso passarci i miei dati vabbè insomma sapete che lo vedete che qua ci sono un sacco di spinotti dentro due di questi sono can high e can low gli altri sono roba cosa ci servirà per hackerare la nostra macchina beh un arduino perché è con lui che vogliamo gestire le informazioni mi servirà un campus maschio questo è uno spinotto maschio vedete che ha tutti i suoi bei connettori qua dentro se ne trovate uno già tagliato con l'altra terminazione di tutti i cavetti potete tenere questo se no ne prendete uno qualsiasi e tagliate l'importante è che possiamo usare in maniera indipendente tutti i cavetti perché così possiamo attaccarci questo piccolo chip di cui vi lascio il link in descrizione che è semplicemente un interprete dalla seriale di arduino al protocollo can quindi questa roba qua si occupa di tirare a 3.5 volt un cavo uno punto 5 quell'altra insomma tutta la parte di comunicazione can vedete che in realtà io già ci ho connesso i cavetti perché va semplicemente due vitine c'è scritto qua dentro eccolo qua lo vedete c'è una H stampata qua e una L stampata qua quindi sappiamo che questo è can high e questo è can low ma non preoccupatevi che nel prossimo video vedremo tutto cioè vediamo quali sono can high e can low tra questi connettori e poi volendo fare le cose fatte bene per accelerare il nostro processo di entropia per dare una svegliata alla macchina per insomma capire bene tutti i comandi che vogliamo ci servirà uno splitter OBD quindi qua c'è un maschio e qua escono due femmine perché abbiamo detto che è un bus a cui chiunque si può attaccare quindi possiamo splittarlo quante volte vogliamo quindi io in realtà nella mia macchina magari all'inizio inizio del tutorial magari nel prossimo episodio attaccheremo solo arduino con questo spinotto andremo direttamente ad attaccarci alla macchina qui ci sarà arduino connesso e tutti sono contenti ma magari già dalla volta dopo nella macchina andrò ad attaccare il mio splitter e da una parte ci attaccherò arduino dall'altra parte ci attaccherò questo che è semplicemente un connettore da OBD alla USB e questo mi permette di parlare direttamente dal computer alla macchina e in questa maniera con lo splitter potendo tenere attaccato contemporaneamente sia il computer con in esecuzione qualsiasi tipo di software magari proprio il software del produttore il software di Ford nel mio caso e dall'altro lato arduino possiamo fare dei giochetti particolari e vedrete che lo faremo per i quali dal software della Ford magari invio un comando attraverso la USB direttamente alla macchina per farle far cose e da arduino però contemporaneamente sto sniffando sto ascoltando tutti i comandi che vengono inviati per capire qual era quel comando quindi dalla mia interfaccia della Ford premo il comando informazioni sul motore e da arduino vedo ah allora questo comando corrisponde a chiedere le informazioni del motore e quindi per quello che ci serve lo splitter perché così possiamo fare questi giochetti del genere riguardo a dove sia la porta OBD nella vostra macchina di solito sta nella zona del guidatore ad esempio nella mia macchina è nascosto qui dentro in questo sportellino che si apre qua sul lato sinistro del cofano tra l'altro avevo già un piccolo connettore comprato su Amazon tempo fa bluetooth per il telefono e la porta è lì sopra eccolo qua in un angolino che quasi non si vede lassù ma nel vostro caso potrebbe essere beh di solito è sempre lì sotto il volante sulla sinistra oppure nella console centrale comunque in quella zona non bisogna aprire il cofano non dobbiamo fare collegamenti strani di solito è super accessibile se non la trovate con un proprio un'occhiata distratta prendete Google e cercate sul vostro modello di macchina dove ce la sono nascosta ragazzi pollice in su per questo video è tutto però pollice in su mi raccomando il prossimo episodio a brevissimo a brevissimo perché sono gasatissimo da questa cosa da poter controllare i finestrini della macchina con Arduino inizialmente ma magari un domani con il Raspberry con Home Assistant con i comandi vocali potremmo per questo video è tutto ciao a tutti pollice in su brillo per questo video è tutto